Ottava edizione Novilara torna ad essere il castello della tradizione del gusto recuperando un'antica festa popolare per creare una nuova manifestazione di tre giorni con artisti spettacoli degustazioni artigianato Novilara arte gusto tagliatelle al castello e il nuovo stile della tradizione basato sul concetto di convivialità e sulla consapevolezza alimentare attraverso il lavoro delle signore del borgo per la produzione di tagliatelle fatte in casa come una volta uno degli appuntamenti più gettonati dell'estate pesarese che si svolgerà nelle serate di venerdì 19 sabato 20 e domenica 21 luglio a partire dalle ore 18 e 30 il castello di Novilara diventa come un contenitore di tante iniziative di tante cose infatti avremo oltre le classiche tagliatelle ormai conosciute tagliatelle fatte in casa fatte a mano con un sugo che può essere di fagioli visto che è conosciutissimo di ragù i piatti della tradizione quindi il pasticciato a coniglio ma tante anche degustazioni guidate attraverso una radio poi che è un concetto mangiadischi e quindi dei vinil set quindi vi invitiamo a venire già dall'aperitivo per poi godervi anche gli spettacoli e gli ospiti. L'intento è quello di creare sempre più interesse riguardo l'arte la musica e la gastronomia cercando sinergie tra tradizione e modernità un nuovo concetto di festa e di valore delle tradizioni per sorprendere i numerosi partecipanti e creare dinamicità e fruizione all'interno del castello del borgo storico di Novilara in modo da farlo scoprire e apprezzare al meglio anche in chiave turistica. Un momento di riferimento non solo per il territorio non solo per la città di Pesaro di cui diventa uno degli eventi principali di quel weekend ma anche a livello turistico e assieme a un lavoro che con Candelara e gli altri borghi si sta mettendo in piedi diventerà anche questa forse la prima stagione in cui quella separazione tra costa e borghi soprattutto per i turisti non tanto per i pesaresi che stanno già muoversi bene sarà meglio colmata anche con un lavoro sui trasporti. Un programma ricco e variegato con spettacoli e concerti per tutti attività laboratoriali per bambini e tante novità. In questa edizione saranno presenti addirittura due special guest il noto cabarettista televisivo di Zelling Sergio Sgrilli e Greg del duo Lillo e Greg attori e comici televisivi.